Io sono Maria Elena Falomo, sono nata il 2 aprile del 1970 a Pordenone e attualmente sono occupata presso l'Università di Padova come ricercatore nell'area di clinica, ostetricia e ginecologia veterinaria. Mi può dire qual è stato il suo percorso di studi? Io vengo da un liceo scientifico sperimentale di indirizzo biologico sanitario, da qui sono arrivata a Padova e mi sono iscritta alla facoltà di medicina veterinaria iniziando a studiare a Brusegana proprio all'inizio di questo corso di nuova esperienza di Padova e dopo un paio d'anni ci hanno trasferito qui a Agrippolis dove tuttora lavoro. Quindi lei ha avuto modo appunto di vivere questa prima fase di Agrippolis, della costruzione di Agrippolis e quindi il passaggio del corso di studio appunto dall'Istituto Agrario della Brusegana ad Agrippolis. Esattamente. Com'è stata questa esperienza? Beh certamente all'inizio è stato un po' acrobatico in quanto quando ci siamo trasferiti i servizi non erano ovviamente ancora completi, era tutto in divenire, quindi non era ancora efficiente il servizio mensa e soprattutto erano particolarmente carenti i servizi di trasporto per raggiungere Agrippolis. Poi molto velocemente il tutto si è regolarizzato e il campus è diventato pienamente attivo. Abbiamo la possibilità di interagire anche con altri corsi di studio e questo è sempre positivo e ovviamente è sempre piacevole lavorare con i ragazzi perché sono una risorsa che ci spinge a crescere e a mantenerci aggiornati costantemente. Ci può parlare un po' più in dettaglio di quella che è la sua attività qui ad Agrippolis sia di ricerca che didattica? Io mi occupo del corso di clinica della riproduzione quina e quindi seguo i ragazzi dell'ultimo anno di medicina veterinaria. In più, oltre all'attività esercitazionale, sono responsabile anche del tirocinio in campo dell'attività di clinica di riproduzione quina e questa è un'esperienza assolutamente gratificante perché mi permette di far conoscere ai ragazzi quella che è la realtà lavorativa nella regione in cui viviamo e speriamo loro lavorino. Ci può raccontare nel dettaglio come si svolge una lezione didattica di didattica equina? Sostanzialmente abbiamo prima una lezione frontale nel quale forniamo quelli che sono i contenuti essenziali, dopodiché trasferiamo questi contenuti in un'esercitazione pratica che può essere o su pezzi anatomici oppure una simulazione di una visita clinica sui cavalli che abbiamo a disposizione per la didattica qui ad Agrippolis e il tutto si completa poi con l'esperienza pratica e lavorativa che svolgono i ragazzi nei mesi da marzo a luglio nelle aziende del territorio. Quindi voi avete anche molti rapporti con le aziende esterne? Sì, assolutamente, trovo che siano un elemento essenziale per dare degli strumenti agli studenti che li rendano idonei a confrontarsi con quella che è la realtà lavorativa. Ci può dire un po' come nasce questo rapporto con le aziende esterne? Ne sono convenzionate? Che cosa offrono? Allora, la difficoltà con gli equini che essendo il cavallo un animale che è un po' una via di mezzo tra l'animale tipo zootecnico e il pet, è difficile avere vere convenzioni perché non sono aziende di grosse dimensioni ma piuttosto privati che ci richiedono un intervento e la nostra attività. E quindi diciamo che sono relazioni interpersonali che noi cerchiamo di costruire e di mantenere solide per consentire ai ragazzi poi di giovare di questo tipo di esperienze. Per quanto riguarda le sue esigenze sia di didattica che di ricerca, pensa che il campus di Agripolis risponda in modo sufficiente alle sue esigenze o potrebbe offrire qualcosa in più? Diciamo che sicuramente è una posizione privilegiata per lavorare, anche se indubbiamente essendo Agripolis cresciuta, sia come numero di persone che operano e anche come importanza se posso aggiungere, certamente gioverebbe di un ampliamento delle strutture disponibili e anche di un aumento magari del personale tecnico che possa coadiuvare le numerose attività che vengono svolte tutti i giorni. Gli impegni di didattica del nostro corso di laurea sicuramente precludono la possibilità di grandi interazioni tra i nostri studenti e quelli di scienze forestali. Lei ha avuto modo di visitare anche altri campus dedicati alla veterinaria in Italia o all'estero? Sì, io infatti mi sono specializzata per esempio a Teramo, ho fatto la specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo, mi sono confrontata con Torino dove ho fatto il dottorato di ricerca e sicuramente trovo che Agripolis non solo sia all'altezza ma certamente possa avere dei punti anche in più rispetto agli altri. In una prospettiva di lungo periodo, se lei potesse avere potere decisionale, che cosa farebbe qui ad Agripolis? Sicuramente c'è l'esigenza di nuovi uffici, di nuovi laboratori e probabilmente anche di implementare quelli che sono i servizi di trasporto pubblico per facilitare l'accesso ad Agripolis, in particolare nelle ore di punta, per esempio un tram potrebbe essere sicuramente una risorsa eccellente per questa struttura. Per quanto riguarda i rapporti con il territorio abbiamo parlato delle aziende, però so che anche molti privati cittadini usufruiscono dei vostri servizi, mi può dire qualcosa a questo proposito? Sì, sicuramente Agripolis sta crescendo anche nei rapporti con il privato, anche se in questo senso andrebbero implementate forse una pubblicità verso l'esterno, perché non tutti sono a conoscenza che c'è un libero accesso alle attività di Agripolis, ma ritengono che sia finalizzato esclusivamente alla ricerca per certi aspetti, in particolare per i cavalli. Se lei potesse ritornare indietro nel tempo, rifarebbe questo stesso percorso di studi e di lavoro? Senza dubbio. Che cosa le dà maggior soddisfazione in questo? Sicuramente io amo il mio lavoro, e sicuramente trovo che sia veramente gratificante far crescere delle persone e aiutarle a formarsi per quello che noi riteniamo un lavoro sicuramente privilegiato, in quanto il nostro lavoro è il nostro hobby in verità. Avete anche molti studenti stranieri o colleghi stranieri? Sì, sono in crescita al numero degli studenti stranieri, ci sono flussi da vari paesi. La cosa bella è che si integrano benissimo con i nostri studenti e vedo che anche con i limiti chiaramente che può offrire il nostro paese è molta di più la gioia che hanno nel condividere questa esperienza con i nostri ragazzi e con il nostro territorio.